ma non si integrano dal punto di vista dei nostri valori, voi continuate a fare così. E la dimostrazione di quello che succede nel mondo è un'Europa questo, per me lei ha sbagliato ed è un pessimo esempio per gli italiani che soffrono e che sanno male. Scusi eh, ma allora anche lei deve andare in piscina, lei non sa che... Qualcuno su Twitter dice la Santa Anche metta a disposizione la sua villa forte dei marmi per gli italiani indigenti, quindi poi sa, lì diventa sempre... Ma questa che cazzata è? Ma cosa vuol dire? Ma no, ma che cazzata è? Ma che cazzata è? Ma questa cosa vuol dire? Scusi, ma voglio dire, queste comunità non lo fanno mica gratis e prendono i soldi per ognuno di questi, non è che voglio dire tutto gratis e sono tutti quelli che fanno beneficenza e sono solidari. Si prendono un sacco di soldi, tutti prendono i soldi, dal governo italiano 5 miliardi di euro. Quindi anche a me di sentire sta roba, che ci sono i buoni, che ci sono i cattivi, vedrà che il tempo dimostrerà che i buoni sono quelli come me, i cattivi sono gli altri, i cattivi sono i cattivi ma essi. Dicendo semplicemente che su Twitter, siccome lei ha detto... No, ho capito, ma siccome si riporti a casa sua, qualcuno dice che si porti gli italiani nella sua villa a Porta di Mani, così hanno scritto, mica e con la mia... Ma io non prenderei mai i soldi come fanno alcuni per ospitare la gente, per farne diventare un business. Guardi, Parenzo, che nessuno lo fa gratis. Ma quale business? E tutta gente, salbergatori falliti o quant'altro che prendevano i soldi, perché qua gratis, non fa niente nessuno, tutti si prendono i montagni di euro. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Serenità. Signora, quale business? Montagne di soldi. Don Massimo, prego, Don Massimo. Mamma mia, l'abbiamo visto adesso in alcune ONG. L'accoglì, io faccio vedere la borsa, Don Massimo. Business, chiude la droga. Oggi questa gente ha il cartellino con il viso. Facciamo rispondere, Don Massimo, che mi sembra... Facciamo rispondere, un secondo. Si placchi, facciamo rispondere, facciamo rispondere, Don Massimo, scusi però. Don Massimo, salta anche, facciamo rispondere, Don Massimo, sulla questione dei soldi. Scusi, pronto? Sì, salta anche, facciamo rispondere, Don Massimo, che non mi sembra...